E salve a tutti amici cuperiani e bentornati in questo nuovissimo video Ma questa volta stiamo su Monster Hunter World Perché questo gioco sinceramente non ci ho mai giocato le versioni precedenti Ma visto questo nuovo ci va per PC, PS4, bla 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 E ho detto compriamolo e quindi niente Ci faccio questo video perché mi andava di farci un video E però in commentare, in commentare perché Essendo non una scheda di acquisizione non posso fare video in live e bla 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 Prima di tutto comunque vi invito ad andare nella pagina Insomma sotto c'è la pagina Facebook, il link al Discord se volete giocare insieme Qualsiasi cosa eccetera Insomma sotto ci sono tutti i link per qualsiasi cosa E niente qua credo che vi farò vedere due missioni mi sembrano Praticamente nella stessa mappa con la stessa caccia Perché avevo bisogno di far amare un po' di giura Un po' di giura E quindi niente l'ho fatto E niente insomma E' un po' che non faccio video così Che ci risentiamo bla 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 Facevo video sempre in compagnia Bande nere sopra e sotto Da dopo questo video in poi non usciranno più video Con le bande nere Sopra e sotto Dipende insomma se carico prima questo O prima quello di escape Insomma vedremo poi Comunque Poi inizieranno ad uscire video di escape Senza le bande nere Quindi tutto molto bello Puccioso e coccoloso Ho provato a cambiare il colore Ho messo 32 bit float o qualcosa del genere Il colore del video E secondo me così Rende ancora di più il gioco Perché Se no se lo lasciavo in 8 bit Si vedevano tipo La filagrana insomma Del film Come se fosse un film Tutta la Quella grana strana Colorata Così secondo me sembra più pulito Ed è Molto bello per Monster Hunter Vi ho Praticamente Durava mezz'ora Questo Questo video Peccato che Non so quanto durano Anzi sono 12 minuti Più o meno Peccato che Il resto Il resto e 15 minuti Sono io Che metto a Craftare Armature A migliorare cose E Qualche minuto dopo Sono che inizio un'altra missione Ma Me l'ha tagliata E quindi E quindi niente Che dirvi E Oh Cioè Faccio questo video Lo volevo portare Un video diverso Visto che voglio iniziare a portare Video diversi Dal 31 Che sarebbe Martedì Quindi Magari È oggi Per voi No è mercoledì È sbagliato Quindi magari Magari questo video Ve lo carico O per lunedì O per martedì Quindi Mercoledì inizia Hunt Showdown Inizia la close ed alfa Dove possiamo iniziare a portare Un po' di Di contenuti E quindi Inizio a fare video Anche su di quello C'è pure l'aggiornamento Da 13 giga E Vuol dire che insomma Qualcosa hanno cambiato Comunque ecco qua Che partiamo Con la seconda missione Vedete i colori sono belli Cioè con questo formato Di colore In post process È bello Mi piace Mi piace Ditemelo anche voi Soprattutto ditemi Se volete altri video Di Monster Hunter Magari Anzi stavo giusto Cercando su Amazon Quanto viene Una scheda di acquisizione Per Per la play Insomma Vediamo Vediamo Eh vabbè Viene Quanto viene 70 euro Più o meno Quindi si potrebbe fare Non lo so Anche se devo mettere via i soldi Perché ci sarà Un progetto Che Vedrete tutti Ma Più avanti Tra diversi mesi Insomma Vedremo E stiamo raggiungendo I mille Cioè Siamo quasi al traguardo Dei mille Sono contento Devo trovare uno speciale Un qualcosa da fare Per adesso siamo a 988 E E niente Sono Sono contento Perché Come dico sempre Il mio scopo Iniziale Era di Di portare Escape in Italia E' quello che ho Praticamente fatto E Quello che continuo a fare E sono molto contento E E niente Di che cosa devo parlare In 12 minuti E qui stavo fermo Non mi ricordo perché Purtroppo Ci gioco Su PS4 Non sulla pro Quindi I frame Non sono a 60 Anche se io Ora in pro Insomma qui Ho messo 60 Ma non so Se poi su youtube Da 30 O da 60 Vedremo Ora qua Non so perché Sto fermo Perché stavo fermo Magari stavo scrivendo cose Magari avevo Switchato schermo Per vedere cose Su internet Molto probabile Decisamente probabile Ok Dai che si inizia E Magari posso fare No i commentari Come dire Far finta Che siano in live Non lo so E poi Mentre gli altri Insomma Quello lì combatte Io sono qua Che raccolgo minerali Perché mi serve Un minerale Perché con questa Con questa spada Mi servono Mi serve Cioè i pezzi di Di tobi Kudaki Mi sembra Mi si chiama Lo chiamo io tobi E E più Un altro minerale Mi diventa Mi da il tuono E quindi Devo trovare quel minerale Quindi Coso tutti i minerali Se magari voi lo sapete Che magari ci sono più esperti Che hanno giocato A monster hunter Magari me lo dicono Magari Hanno già fatto Quella spada E quindi mi dicono Dove si trova E quale è E niente Spero che Vogliate altri Video di monster hunter Perché Insomma A me piace un sacco Ci gioco tantissimo Ci sto giocando E Almeno Magari si cambia un pochettino Tanto Icecape ci gioco ancora Infatti Prima di questo video Adesso sono Le 3.50 Che sto facendo Insomma Che sto facendo Questa roba E Insomma Ci ho giocato Da mezzogiorno Fino alle 3 Diciamo Da mezzogiorno Fino alle 3 Quindi comunque Ad escape ci gioco ancora Non vi preoccupate Anche quando usciranno altri giochi Porterò altri giochi Escape Continuerà ad uscire Spero che Spero che su escape Escano Cose Belle Cose cicciose Ho visto delle foto Che dicono Hanno fatto vedere Dei silenziatori Tamarissima Proprio Tamar In cui c'è Teschio Ali Cose Ma davvero Tamarissima Ora vado su facebook Così Lo ritrovo E Allora Vediamo Escape from Tarkov E poi Soprattutto Il L'amount Del po Sì del pompa Del lancia granate Il lancia granate Da mettere Sotto canna C'è Wow Ecco qua C'è un mirino Un altro caricatore Non so Da Da 60 Può essere Un caricatore Questo sembra tipo Laser Flash Qualcosa Un altro grip Che sembra Un grip Fighissimo Sembra Non so Tipo quei Grip Tipo il val Non so Non saprei come spiegarlo Tipo quello del val Che fa grip E calcio insieme Questo sembra grip Beh Soprattutto Non so Ecco qua Poi c'è il lancia granate C'è un altro handguard Un altro handguard Un altro handguard Più lungo Sembra in carbonio Un altro mirino A distanza E nelle Cose qua Sembra un 16 per Non so Da quello che vedo Eccolo qua Un silenziatore Proprio Bucato Cosato Con un teschio Con le ali Wow E altri handguard Insomma Sono contento Poi piano piano Stanno facendo Diverse patch Da pochi mega Veramente Da pochi mega In cui Fixano qualcosina Addirittura Nella parte nuova Di custom C'era un muro In cui ci si poteva Passare E i colpi Però non ci passavano Ma i player Ci potevano Passare attraverso E hanno fixato Quella cosa Purtroppo Perché secondo me Un combattimento Usando Quella puttanata Sarebbe stato Proprio Qualcosa Di bellissimo Ora qua È bello Perché Questo attacco Qui Che gli monta Sopra Gli spara E poi scoppia È bellissimo Cioè qui La spadash È la mia Arma preferita Ho provato Lo spadone Ho provato Il coso Il Le spade Insomma Le due lame Ma questa Secondo me È la È la più Cazzuta Perché è veloce Fa danno C'ha delle belle combo Ed è bella Qui Non riuscivo Non riuscivo E niente Siamo quasi Alla fine Quindi Quindi sì Siamo quasi Alla fine Che dirvi Io Non so davvero Come ringraziarvi Per il Continuo supporto Di Tutto quanto Del canale Che Stiamo crescendo Stiamo crescendo Sono contento E L'ho detto Da un'idea È diventata Una cosa Seria Tra virgolette Tra l'idea Di portare escape Ora comunque Continuo a farlo Perché Giustamente Sono Più seguito Per quello Ed è giusto Che continui a portarlo Anche se Secondo me Un po' Di Insomma Cambiare un pochettino Non sarebbe Una brutta idea Perché Cioè Ora Riguardando il coso Vedo escape 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 Mamma mia Quindi Cambiare un po' Con monster hunt Con hunt Showdown Soprattutto hunt Showdown Che lo vorrò portare Fisso come escape Quando uscirà Perché quello È veramente Veramente divertente Sto Lo sto giocando Nello stress test È bellissimo Ora fortunatamente Nella close ed alpha Possiamo iniziare A fare foto A pubblicare cose Blablabla Quindi Sicuramente Sicuramente Ce lo porterò E niente Survive the night In molti Davvero in tanti Mi scrivono Che è uscito Che lo porto Blablabla Problemi con Insomma In loot Cose Quindi È un po' Difficile Perché c'è anche Ancora una sorpresa Per quando faccio I video di Survive the night E quindi Insomma Devo portarlo E niente ragazzi Che dirvi Siamo giunti Alla fine Del Del video Io Non lo so Io vi invito A iscrivervi Se non l'avete fatto Soprattutto se vi piace Escape from Tarkov E niente Io Spero di Riuscire A Portarvi In Italia Anche Ant Showdown Perché non molti Lo conoscono Tante persone Lo conoscono Perché glielo Spammato Io vado lì O lo conosce Ant Showdown No che cos'è Questo è bello È bello Valla a vedere Iscriviti qua E quindi Spero che Se non in tanti Lo conoscete Andatola a vedere E Come abbiamo fatto Con Escape Facciamolo anche Per Ant Showdown E niente Che dirvi Io vi saluto Già adesso Ci Ci vediamo Nel prossimo video Che Potrebbe essere Di Escape Potrebbe essere Di Ant Showdown Se questo video Ve lo ho Caricato Di Lunedì Barra martedì Il prossimo video Sarà di Escape From Tarkod Ok Bene Quindi niente ragazzi Io vi ringrazio Per la visione E ci vediamo Nel prossimo video E grazie ancora Per tutto il supporto Per tutto quanto E niente Ci si vede Ciao ciao Ciao